Antonio Ferrari è nato nell'89, abbiamo iniziato con tre mezzi e io ero uno degli primi autisti. Prima dei 19 anni guidavo già questo camion con un rimorchio. Adesso abbiamo in azienda 220 mezzi più 220 trattori, 50 motrici e quasi 700 semirimorchi. Siamo specializzati nel trasporto di alimentaria e sulla grande distribuzione. In marchi Pirelli usiamo il triathlon che ci dà una buona resa. Anche gli autisti mi dicono che si trovano bene. Sono Geva, responsabile tecnico del manual tensione dell'officina AF Logistics. Noi facciamo un misto, un percorso misto che sarà 60 per cento statale e 40 per cento autostradale. Da un paio di anni che usiamo le gomme Pirelli. Triathlon è una gomma che nel stagione estiva si comporta bene, nel stagione invernale è una gomma che ha un grip soprattutto sul ghiaccio e neve. Per noi è un ottimo gomma ci ha dato la resa chilometrica che cercavamo da tempo. Abbiamo scelto Prometheon per verificare la durata. Prometheon è un partner molto affidabile. Rispetto ad altri partner siamo molto più seguiti.